ciao amici welcome guys oggi vi facciamo vedere come aumentare la memoria del vostro tablet pc notebook o smartphone con l'adattatore micro sd type c acquistiamo una micro sd di capacità 32 64 128 gb quanto desiderate e poi questo adattatore della new top micro sd come dicevo type c che da un lato presenta l'entrata micro sd dove andremo ad inserire la memoria e dall'altra il connettore type c che va bene ad esempio per i nuovi ipad per laptop e soprattutto anche per smartphone proviamo inseriamo l'adattatore nella porta type c del nostro ipad pro come vedete anche un led di status che indica il caricamento apriamo l'app file andiamo alla nostra flash drive che abbiamo chiamato e ho caricato come prova un'immagine un documento e un video in questo modo possiamo espandere la memoria del nostro ipad e soprattutto è possibile trasferire immagini documenti video e quant'altro dall'ipad sulla memoria esterna e viceversa ciao ragazzi